Credito l'into che non è il tuo vero padre perché il tuo vero padre è... E' il Laio! E' quindi? E' quindi è ucciso tuo padre, tipo? E' ucciso quello stronzo di tuo padre! Ce l'avevo ragione io! Ma quindi se Laio è mio padre e mia madre... E' il tuo padre, tipo? Beato che è! Luce!